Sono tante le specie dei funghi, non tutte buone da mangiare. Alcune di queste possono trarre in inganno e confondere anche gli appassionati più esperti. Non rischiare, rivolgiti agli ispettorati micologici dell'azienda USL per certificare la commestibilità dei funghi raccolti. Consulta il sito www.ausl.pr.it per gli orari di apertura e le modalità di accesso. Grazie.